ciao a tutti da moto.it oggi siamo con yamaka a provare la gamma nuova motocross 2017 la linea prevede 250 4 tempi, 450 4 tempi e il 125 ognuna nella versione standard e poi abbiamo avuto anche l'opportunità di provare la gamma degli accessori jytr ovvero i componenti che possono essere montati dopo con dei kit specifici che permettono di incrementare ulteriormente la potenza e le prestazioni di queste moto grande attenzione è stata posta al 250 4 tempi che è eredita dalla versione 450 quelle che sono state le innovazioni dell'anno passato sul telaio quindi abbiamo delle pedane abbassate di 5 mm una struttura nella parte della sempre della zona delle pedane che è stata irrigidita e questo dà alla moto maggiore trazione e soprattutto maggiore stabilità soprattutto nel veloce altra cosa è stata fatta è un grosso lavoro sul motore sull'erogazione la testata infatti del 250 viene completamente rivista sia nella parte di aspirazione che di cam che di scarico così da dare al motore ancora più tiro nella parte principale di erogazione ma soprattutto degli altri regimi veramente degni di nota l'anno scorso infatti questa moto girava con una krapovic a quello che oggi gira nella versione standard ora siamo su 250 è quello che ha ricevuto maggiori aggiornamenti dal 2017 da subito sentiamo un nuovo posizionamento delle pedane da un tiro in alto che sembra un finire se dice molto meglio anche in piedi la posizione è fatta su 450 abbiamo degli interventi di dettaglio quindi un'ottimizzazione di quello che può essere l'erogazione dal punto di vista elettronico abbiamo nuove grafiche e anche in questo caso abbiamo un kit JYTR che può essere montato aftermarket e che dona alla moto ancora più potenza ma soprattutto più trazione e più facilità di erogazione in effetti pensandoci più cavalli di questa moto potrebbero non servire ma in realtà con questo kit abbiamo un'erogazione molto più pulita molto più fluida e la moto diventa quasi più facile da guidare è curva l'ambio raggio puoi stare bene in piedi anche per i salti molto granciata la potenza è decisamente più gestibile e anche in uscita di curva puoi lasciare la marcia in più senza l'uso della frizione e lei comunque tira un altro lavoro molto efficace è stato fatto sul cambio dove abbiamo un nuovo selettore che velocizza la cambiata la rende più fluida la rende più efficace quindi proviamo ad inserire stretto in appoggio anche sui salti si comporta bene il setting è abbastanza rigido delle sospensioni che non la fa basculare nelle curve lunghe per inserirla ci vuole un po' di forza però una volta che hai puntato il gas e comincia a caricarsi dietro ha una trazione incredibile 125 qui abbiamo una moto di una base tecnica comunque ferma al modello 2008 ma con tanti aggiornamenti di dettaglio che rendono questa moto assolutamente sempre attuale la versione standard ha già un ottimo motore un ottimo tiro e una buona progressione soprattutto nelle uscite di curva la versione kit ovvero quella con quale poi si può correre anche la Yamaha Cup è tutta un'altra storia perché ha una spinta dai bassi giri fino in alto veramente divertente e non vorresti mai scendere da questa moto bene ecco è è Quindi per gamma 2016 2007 Yamaha ripresenta una gamma importante, completa, per ogni età e ogni livello di guida. Rimane una moto specifica competizione, una moto che bisogna saper guidare, bisogna saper portare, però assolutamente divertente in tantissime situazioni. Grazie a tutti, alla prossima da moto.it